C'è un'emergenza nell'emergenza e riguarda il reperimento di personale. Lo denunciano il sindaco di Chiavenna, Luca Dellabita, e il presidente della comunità montana Val Chiavenna, Davide Trussoni, parlando di una fase generale molto complessa. Dopo la pagina della pandemia, scrivono gli amministratori, ora i temi legati alla situazione internazionale e agli aumenti dei costi energetici che hanno e avranno ricadute molto pesanti in tutti i settori di attività. Una situazione, proseguono, che preannuncia difficoltà importanti per cittadini, famiglie, enti pubblici e in modo particolare per le nostre imprese. È in questo contesto che Dellabita e Trussoni parlano della difficoltà di moltissime attività commerciali, ricettive, turistiche, industriali e artigianali della Val Chiavenna che, sostengono, offrono da mesi opportunità di lavoro senza riuscire a trovare il personale di cui hanno bisogno per portare avanti la loro realtà. In queste settimane, dal confronto con le associazioni di categoria, con gli imprenditori e i titolari di attività, emerge un significativo grido di allarme. Oltre alla situazione generale, pesa sul nostro territorio il confronto con i livelli retributivi della vicina Svizzera che rappresenta senza dubbio un'importante realtà con ricadute economiche rilevanti per le persone e per il nostro territorio, ma pone la proposta delle nostre imprese in grande difficoltà e la rende poco appetibile per il lavoro. In queste settimane, numerosi artigiani ci hanno rappresentato la loro fatica non riuscendo a trovare il personale in un momento in cui il mercato rileva un segno positivo. Pensiamo a tutto il settore dell'edilizia, ai tanti lavori pubblici e alle difficoltà per le nostre imprese di organizzarsi e di presentarsi competitive verso realtà più grosse che vengono dall'esterno. In altri casi, le nostre aziende investono nella formazione del personale giovane per poi perdere queste figure che scelgono proposte oltre confine. Il riferimento è inoltre al settore ricettivo. Numerosi albergatori, baristi e ristoratori, affermano della Bitta e Trussoni, all'inizio di una nuova stagione turistica non riescono a coprire il loro fabbisogno di personale. Nelle prossime settimane cercheremo di sensibilizzare i livelli istituzionali superiori per provare a trovare soluzioni ormai urgenti e improrogabili. Fra le proposte avanzate, una riduzione del peso fiscale sul costo dei lavoratori per le imprese che sono a pochi chilometri dal confine svizzero, aumentando l'entrata per il lavoratore stesso senza caricare ulteriormente le imprese, oppure la detassazione per alcuni aspetti dei bilanci delle aziende. Infine, gli amministratori rivolgono un appello soprattutto ai giovani, anche in vista della stagione estiva, a non lasciar cadere opportunità in forme temporanee o continuative offerte dalle realtà del territorio.